Si tratta appunto di persone fragili che comunque necessitano anche di essere ascoltate, di essere considerate. Proprio per questo motivo ritengo sia a maggior ragione inaccettabile il fatto che queste persone abbiano quindi contratto un virus in un ambiente protetto e che quindi avrebbe dovuto comunque preservare da qualsiasi tipologia di contagio ma che così ne fatti non è stato. Giacomo Mulanio è l'ultima vittima della RSA di Montevarchi che ad oggi purtroppo conta già 18 decessi. Il 67enne è morto lo scorso giovedì all'ospedale San Donato di Arezzo dove si trovava ricoverato nell'area Covid. Lui era giovane, l'età era notevolmente inferiore rispetto alla media dei decessi registrati nella RSA. In più lui non aveva patologie che potessero comunque ricondursi ad un'insufficienza respiratoria. Il 67enne si trovava nell'RSA Valdarnese che ormai lo ospitava da alcuni anni quando ha scoperto di essere positivo al tampone. I primi tamponi sono stati effettuati verso la fine di marzo. A questa prima ondata lui era risultato negativo, però poi successivi tamponi già effettuati a distanza di pochi giorni invece era risultato positivo al Covid. Forse probabilmente chi di dovere non ha adottato adeguatamente le misure anticontagio. La malattia poi inesorabilmente ha progredito sino all'aggravamento che aveva portato il 67enne all'ospedale San Donato dove poi è deceduto. Lui era perfettamente cosciente, quindi si rendeva conto di quello che gli stesse succedendo e anche questo è stato notevolmente anche più gravoso per lui perché ha dovuto passare gli ultimi giorni della sua vita senza poter nemmeno star vicino ai propri affetti, quindi se ne è andato in completa solitudine. La Procura di Arezzo adesso ha disposto il sequestro della Salma, un atto dovuto nell'ambito dell'inchiesta aperta sulle morti e i contagi avvenuti nella casa di riposo di Via Pascoli, struttura duramente colpita dal Covid-19. Il decesso del signor Ulani, così come tutti i precedenti decessi per Covid nell'RSA, sono confluite nel fascicolo che è aperto presso la Procura, presso il Tribunale di Arezzo, è un fascicolo ovviamente contro i gnoti perché appunto la Procura dovrà innanzitutto accertare chi siano effettivamente i responsabili di queste condotte. Attualmente la Salma quindi è sotto sequestro, è stato già nominato un medico legale che provvederà nei prossimi giorni all'esame autoptico per verificare effettivamente il nesso causale tra il Covid e il decesso. Nel fascicolo per adesso è ipotizzato il reato di omicidio colposo plurimo.